Giacomo Frazzitta, Presidente della Camera Penale di Marsala, oggi in conferenza stampa ha annunciato una sorta di rivoluzione della stessa Camera Penale, più vicini al cittadino, più vicini ai giovani che si vogliono avvicinare alla professione, tante novità anche per la città in positivo. Che cosa succede? Succede che l'avvocatura penale ormai si è allargata la base dell'avvocatura penale, siamo davvero tanti, quindi dobbiamo cercare anche di rispondere alle esigenze di tutti, alle esigenze dei giovani che si avvicinano a questa professione bellissima, meravigliosa, che io ho avuto l'opportunità di poter fare e speriamo di poter dare questa opportunità pure ad un'altra generazione che ci sta per seguire e che sta avendo enormi problemi. Quindi diciamo che questo è uno degli obiettivi, però è anche lo scopo della nostra attività, sarà quella di essere vicina alle esigenze degli operatori del diritto, migliorando anche il livello della nostra qualità di lavoro ogni giorno nelle aule giudiziarie, anche nell'interesse del cittadino che si avvicina alla giustizia penale, un cittadino che spesso ha un impatto traumatico perché magari sta ore e ore ad attendere per essere sentito come testimone, cercheremo di pungolare perché noi faremo da sentinelle, sostanzialmente questa è la nostra funzione, come dice il nostro Presidente nazionale Beniamino Migliucci, le camere penali devono essere sentinelle al servizio dei cittadini. E' questo che tenteremo di fare, oltretutto il Consiglio Direttivo formato dalla collega Francesca Frustelli, la collega Lilla Losciuto, da Marco Campagna, oltretutto personalità politica molto conosciuta e siamo onorati di averlo con noi, e dal Vice Presidente Francesco Mosceri, è un Consiglio Direttivo estremamente giovane e speriamo di portare appunto una ventata di novità. Però questo lo stiamo facendo anche con l'aiuto del Consiglio Direttivo uscente, che ringraziamo, l'Avvocato Diego Tranchida che ha certamente durante il suo quadriennio fatto un'attività eccellente di miglioramento della nostra Camera Penale. Noi proseguiremo, cercheremo di essere all'altezza e a proseguire, però anche andare verso nuove strade, questo è l'obiettivo della nostra Camera Penale. Il programma nel dettaglio è molto variegato, si parla dei cantieri, una sorta di festival, si parla di un telefono amico, di cos'altro? Cantieri del diritto in realtà vorrebbe provare ad essere una risposta al festival del diritto di Piacenza, che però è qualcosa di estremamente arduo e complesso. Noi faremo qualcosa forse di meno importante, però ha sempre lo stesso denominatore comune degli altri obiettivi, cioè aprire il Tribunale, aprire la nostra avvocatura al cittadino, farci conoscere e quindi andare vicino anche alle esigenze. I cantieri del diritto speriamo di riuscirlo a realizzare, oltretutto è uno degli obiettivi anche dell'attuale Presidente del Consiglio dell'Ordine, l'Avvocato Zarzana, con cui speriamo e speriamo e siamo certi di poter effettivamente collaborare. Oltretutto lui ha dimostrato in questi anni di organizzare convegni di elevatissima caratura culturale e noi cercheremo di rubare un po' della sua attività e di metterci sulla sua scia.